sono allergica ai gatti vuoi evitare di riprendermi? Rami parlami di qualcosa ti devo dire? ciao Paolo mamma rocarma è carino lui poi mi la metto aperto brucia no ma non è che brucia è come dire fittica non è che fa male però è il pensiero della vena è quello il mio problema capi quella sta pensando alla vena non mi faccio l'analisi del sangue da 3 anni perché metto paura in lago voglio dire la vena pensa che sto facendo vabbè ho quasi finito quasi finito la prima lettera stiamo ancora là come hai fatto quello a farmi in 2 minuti? mi avevo fatto tutto ho detto bah ma che sei un genio ma chi? chi le deve scarparare ancora? no vabbè ma di questione sono convinta anche io perché fondamentalmente dopo ho perso tipo quanto cazzo parla? madre no devo parlare perché ah veramente non ti ho mai sentito così ed ho qua ed ho qua in te dopo nel momento pensi nella vita che ho meglio parlare addio tanto oh la vera ahahahahahahahahah sempre la produced lo santo santo è sotto lo schife ahahahahahahahahahah ahahahahahah ahahahah ahahahahahah Grazie a tutti.